Assessore, oggi la Giunta ha approvato questo nuovo piano di edilizia sanitaria ospedaliera. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di rivoluzionare la sanità delle marche, non più incentrata negli ospedali unici, ma nel creare una rete ospedaliera integrata dei nostri ospedali, sia quelli che sono stati riconvertiti da quelle che io ho definito in passato scelte scellerate e quali progressivamente vogliamo restituire i servizi per la salute dei cittadini del nostro territorio, del nostro territorio marchigiano, sia per quelli che avrebbero rischiato di essere depotenziati da scelte che volevano accentrare tutti i servizi in uniche strutture. Nello specifico quali sono le novità? Le novità sono numerose, il che significa che valorizziamo tutta la rete ospedaliera che era stata abbandonata in precedenza, in alcuni casi risulta anche fatiscente, con interventi ad hoc per l'adeguamento normativo di quelle strutture e questo accadrà anche nella nostra provincia. Ecco, nella nostra provincia appunto quali sono gli interventi previsti? Oltre alla realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro, di cui si è tanto parlato, per la quale prevediamo una cifra pari a circa 140 milioni di euro, noi vogliamo collateralmente e immediatamente partire con la progettazione e la messa terra di risorse per l'adeguamento di tutte le altre strutture della provincia di Pesaro e Urbino. Ad iniziare da Sasso Corvaro, il quale in questo momento è in piedi una convenzione con il privato che viene gestita da Asur. Una volta definita quella gestione, siamo pronti ad intervenire sulla struttura di Sasso Corvaro per attivare alcuni servizi che il territorio ci richiede. Ma lo stesso accadrà con il miglioramento della struttura di Urbino con 7 milioni e 100 mila euro di investimenti o la struttura di Cagli con 3 milioni e mezzo di investimenti, l'adeguamento della struttura di Fossombrone e di Pergola 2 milioni e 4 milioni di euro e poi l'ospedale Santa Croce di Fano, l'ospedale della terza città delle Marche, sul quale prevediamo sin da subito uno stanziamento di 11 milioni e 700 mila euro.